Nell'area pratese sono 106 nuovi casi di coronavirus e 5 i decessi nelle ultime 24 ore, numeri che fanno salire i rispettivi bilanci a 9.525 persone che hanno contratto l'infezione e a 196 persone che non ce l'hanno fatta superare la malattia. Le ultime vittime sono due donne di 68 e 80 anni e due uomini di 64 e 75 di Prato e una donna di 70 anni di Vaiano, tutti erano ricoverati all'ospedale Santo Stefano. Sono i dati contenuti nel bollettino diffuso oggi dalla regione per delineare il quadro dell'epidemia nelle ultime 24 ore. In Toscana si registrano 769 casi in calo rispetto agli oltre 1000 di ieri e 41 decessi, 21 uomini e 20 donne, età media 82 anni. I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di 13.230 tamponi, il cui esito positivo si è attestato al 5,8%. In calo i ricoveri, 1.373, 47 in meno di ieri i pazienti ricoverati nelle aree Covid degli ospedali toscani, 261 nelle terapie intensive, 2 in meno. Bene anche la situazione al Santo Stefano dove i ricoveri nei reparti Covid sono 105 e quelli in terapia intensiva sono 17. Accanto a questa buona notizia c'è quella delle guarigioni che crescono senza sosta. 3.463 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 74.261. Dall'inizio dell'epidemia i casi in Toscana sono più di 107.000, le morti quasi 2.900.